Incidente stradale mortale a Montesano sulla Marcellana, un uomo di 69 anni pare per motivi in via di accertamento che abbia perso il controllo della sua auto finendo in un fossato. Purtroppo l'impatto è stato fatale e per il 69enne non c'è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile, sotto shock l'intera comunità. Il fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri per cause ancora in via di accertamento. Lo scontro fatale è avvenuto in via Pantanelle nella frazione Scalo. La tragedia si è consumata nella serata di ieri 16 febbraio a perdere la vita Ernesto Pascale. Solo 5 mesi fa il 69enne aveva perso suo nipote in un incidente avvenuto a Padula. Due disgrazie per la famiglia al dolore si aggiunge dolore in poco tempo. Il fatto di cronaca avvenuto nella serata di mercoledì ha lasciato ancora una volta i cittadini nell'angoscia per una notizia inaspettata. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava guidando la sua auto a una Lancia Ypsilon quando probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo del veicolo ed è andato a finire fuori strada. A lanciare l'allarme sono stati gli altri automobilisti, infatti impauriti hanno subito pensato al peggio allertando le autorità competenti ed anche i mezzi di pronto soccorso. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 69enne. Per ricostruire la dinamica dell'incidente di ieri sera sono accorsi i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno dapprima aiutato a rimuovere dalla macchina l'uomo e poi hanno tirato fuori la lancia dal fosso dove era terminata. Dopo i rilevi del caso sono ancora in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto. La comunità di Montesano sulla Marcellane si è stretta al dolore della famiglia con numerosi messaggi di cordoglio.